Quali sono i vantaggi e le criticità per i censimenti permanenti per l'amministrazione? Per le amministrazioni comunali i vantaggi sono senz'altro la possibilità di costruire una rete permanente di rilevatori, in più una rete che si forma soltanto una volta di 10 anni, questo permetterà di avere dei rilevatori professionalmente più adeguati a questo tipo di lavoro. Inoltre a regime avremo un ritorno di dati annuale invece dei soliti ritorni decennali che spesso arrivavano anche con un certo ritardo.